Oggi diamo il benvenuto a Brian Clough, che è il nuovo allenatore del Leeds United. Ha preso il posto di Don Revy, il miglior allenatore del paese, che ha portato il Leeds a vincere praticamente tutto. No, non proprio tutto. Non ha vinto l'European Cup. A parte quella, ha vinto tutto. Nervoso? No, non sono nervoso, Austin. È solo che non vedo l'ora di iniziare. Questa è per lei la sfida più grande e sappiamo che per la prima volta l'affronterà senza Peter Taylor, suo assistente da sempre. Sì, Pete è a Brighton. Ha avuto l'opportunità di venire con me, ma Brighton è stata la sua scelta e il Leeds è stata la mia. Direi che la sua è una scelta sorprendente, viste le numerose critiche rivolte alla squadra negli anni passati. È vero. Lei ha accusato i giocatori di scorrettezze, imbrogli, dissenso, gioco falloso e ha parlato male di Norman Hunter e ha detto anche che Peter Lorimer simula le sue cadute. E avevo ragione. Sono curioso. Perché adesso mostra tanto fervore nel legarsi ai Leeds dopo le velenose critiche che ha rivolto loro? Bella domanda. Avrei bisogno di almeno mezz'ora per spiegare ai fan questa storia. Il calcio è un gioco davvero meraviglioso, Austin. E deve essere giocato meravigliosamente. Io penso solo che i Leeds non abbiano sfruttato il loro potenziale. Sono diventati campioni senza essere davvero campioni. Non meritavano di indossare quella corona, non si sono fatti amare. Ma questo non mi stupisce affatto. Se solo penso, diciamo, al tipo di organizzazione che la squadra ha avuto alle spalle. Che cosa intende con organizzazione? Immagino si riferisca a Don Revy, a lungo considerato un padre per i Leeds. E lei arriva qui come un estraneo, anzi come un nemico a giudicare dalle dichiarazioni fatte. Quindi pensa di poterlo sostituire come fosse un patrigno? Non si aspetta un certo risentimento nei suoi confronti? Beh, sicuramente io mi aspetto ed accetto anche una certa freddezza da loro, inizialmente. Questo è perfettamente normale. Ma non ci vorrà molto prima che realizzino che io sono uno che gioca pulito. Io sono una brava persona, una persona alla mano. E forse sotto la mia guida capiranno cosa significa vivere in una famiglia felice finalmente. Cosa le fa pensare che con Don non fossero felici? Non avrebbero giocato quel calcio se fossero stati felici.